Oggi vedremo più in dettaglio le famiglie logiche digitali, quindi TTL e CMOS, andando a vedere anche come sono fatte all'interno, dando una rapida occhiata allo stadio di uscita che è interessante e importante poi per capire come andare a collegarle insieme. Bene, iniziamo subito. Oggi vediamo qualche informazione sulle famiglie logiche. Abbiamo detto che il primo tipo di circuito integrato e digitali sono stati quelli di tipo TTL con tecnologia bipolare, cioè che impiegano transistor BJT. Se noi guardiamo all'interno di uno di questi circuiti integrati, per esempio una porta logica che poi vedremo più avanti, anche se sul canale ho già parlato su dei video sparsi, allora all'interno immaginate, sapete tutti, immagino cos'è un portanotte, quindi un invertitore, è una porta logica che inverte il segnale che applico. Metto L, esce H o viceversa, metto H, esce L. Abbiamo un'uscita. Noi lo rappresentiamo così, ma all'interno del circuito integrato questo viene realizzato con dei transistor. C'è quindi tutta una combinazione di transistor che realizzano questa cosa qui. Abbiamo la parte di uscita, che vado a disegnarvi qua in modo veramente schematico, realizzata con una configurazione chiamata Totem Pole, in cui abbiamo due transistor messi in questo modo. Quindi abbiamo uno, poi c'è un diodo di protezione, qui viene prelevata l'uscita, e abbiamo poi un altro transistor qui sotto. Le basi di questi due transistor vengono pilotati dagli stadi che stanno prima. Qui potremmo avere, per esempio, un singolo transistor che va a controllarli, e quindi determina l'attivazione di questi due transistor di uscita. Quindi se questa qua è l'alimentazione, qui avremo un elemento resistivo, eppure sull'emettitore che va poi a ground. Quindi qui diamo un segnale, e questo fa sì che si attivino uno o l'altro, e quindi producono un segnale di uscita. Per come è stato realizzato, quindi come è stato pensato questo sistema, accade che quando il transistor Q1 è spento, quindi è off, non abbiamo una corrente di base, abbiamo qui una tensione alta vicina a quella di alimentazione, che dicevamo è per il TTL di 5V, quindi qui abbiamo quasi 5V, questo transistor, il Q2, resta acceso, quindi è ON, vuol dire che è in saturazione, quindi qui la caduta di tensione è minima, e quindi qua in uscita abbiamo un segnale alto, il Q3, ovviamente, visto che la sua base è quasi a zero, è praticamente spento, è in interdizione, quindi come se non ci fosse, e quindi qui abbiamo la tensione di uscita alta, tensione di uscita alta però per quello che c'è qui dentro, quindi la resistenza, questo transistor e il diodo non è pari a 5V, 5V lo è solo nei nostri calcoli ideali, quindi il livello alto è più basso, quindi sarà magari tra 3,5 e 4V, un pochino più basso di quanto ci aspettiamo. Quando invece la situazione è opposta, andiamo ad attivare il Q1, quindi il transistor Q1 è attivo, quindi vuol dire che è in saturazione, questa tensione è bassa, e quindi abbiamo il Q2 che risulta off, quindi come se non ci fosse, è interdetto, il Q3 è in saturazione, quindi abbiamo in uscita un livello basso, anche in questo caso non è proprio zero, ma sarà la VCE del Q3, quindi sarà circa 0, qualcosa volt, quindi facciamo 0,2, 0,3 volt, quindi non è propriamente zero. Questo va tenuto conto quando si vanno a unire tra di loro più porte logiche, perché possono esserci dei problemi, appunto perché qui non usciamo con i 5V nominali, ma con la tensione che può essere anche un bel po' più bassa. I moderni circuiti TTL, che usano ancora la tecnologia bipolare, sono poi stati migliorati, quindi non trovate effettivamente 3,5, ma quasi 5V, quindi 4V passa, lo vedete poi anche in un esempio. Nella tecnologia MOS invece andiamo a utilizzare sullo stadio di uscita due transistor di tipo CMOS, adesso qua li faccio proprio disegnati in modo strasemplificato, abbiamo una situazione simile, con questi due transistor l'uscita che viene collegata qua, questa è la tensione di alimentazione a 5V, anche qui avremo uno stadio, un transistor che va a pilotare, quindi ne accende uno e spegne l'altro di volta in volta, qua invece ci troviamo in una situazione migliore perché a seconda del pilotaggio ne avremo uno acceso, l'altro spento e viceversa, e quando accade questa situazione abbiamo praticamente che la caduta di tensione è minima, quindi la tensione che vedremo in uscita sarà praticamente pari a quella di alimentazione, quindi potremmo avere per esempio 4,8-4,7V quando il segnale è alto e qualche frazione di Volt nel caso sia basso. Si comportano in modo molto più netto rispetto al TTL. Ci sono ovviamente problemi quando andiamo a metterli insieme, quindi quando combiniamo circuiti integrati di una famiglia e dell'altra. Ci sono tutte delle strategie per andare a combinarli ed evitare danni. Una stessa porta logica TTL ha delle tensioni di ingresso minime e massime che può riconoscere come stati alti e bassi lo stesso con le d'uscita. Spesso su DataSheet trovate delle indicazioni relative all'ingresso e all'uscita. Le possiamo anche andare a mettere su un grafico, su una freccia, per l'ingresso e per l'uscita. Che vi dicono quali sono le soglie perché un segnale applicato possa essere riconosciuto come alto o basso. Quindi non è una cosa netta, quindi non è che se alimentate 5 volte, a 2,5 avete la spartizione delle acque, ma avrete una piccola zona che va dal 0 a qualche frazione di volt, quasi anche un volt in qualche caso, quindi facciamo 0,7 volt, in cui il segnale applicato viene riconosciuto come basso. Invece da un certo livello in su, magari da 2 volt in su, viene riconosciuto come alto. Quindi per far sì che la porta o il circuito funzioni correttamente dobbiamo presentare un segnale che è o qui dentro o qui sotto. In uscita, come abbiamo visto, abbiamo una situazione simile, quindi produrremo un segnale magari in un range un po' ridotto, quindi che cadrà tra un valore massimo e un valore minimo come alto. In caso di segnale basso, invece, anche qua, andremo a buttare fuori una tensione che sarà entro un certo range. Bisogna fare attenzione quando si combinano le porte che le tensioni siano nel range corrette, altrimenti siamo nella zona centrale che è una zona di indeterminazione e genera dei segnali di uscita non prevedibili. Quindi bisogna stare molto attenti. C'è grande confusione poi perché ci sono tantissime sigle, tantissimi nomi. Ci sono addirittura dei famiglie che iniziano per 74 che sono poi CMOS. Come facciamo a riconoscere queste famiglie? Abbiamo detto che quelle bipolari, cioè i TTL, iniziano per 74 però ce ne sono varie. Quindi abbiamo il 74 standard, il 74 con la L subito dopo che sta per a bassa potenza. Esistono dei 74S che sta per Schottky, quindi utilizzano dei Diodi Schottky per diminuire un po' quelle soglie che vedevamo. Quindi se fosse un 74.04, sparo una sigla, possiamo trovare sul mercato vari tipi di modelli. 74.04 secco, 74L04, 74S04. Troviamo poi magari anche degli ALS che sta per Advanced, Low Power Schottky, oppure LS, 74LS, oppure 74 addirittura F che sta per Fast. Quindi c'è una grandissima varietà. Esistono poi anche famiglie particolari con altre tecnologie, che adesso non stiamo a trattare, queste sono le più comuni. Nel mondo CMOS, quindi sono le famiglie con il 40, abbiamo quelle standard, storicamente sono quelle con il 40 seguito da due cifre. Spesso hanno anche una B messa qui in fondo. Ci sono poi anche 74HC, quindi potrei avere un 74HC00. questo qua è praticamente questo HC sta a indicare che questo chip, quindi un 7400 o un 74404 che è qui è stato realizzato con tecnica non bipolare ma CMOS. Di solito la C dovrebbe indicarmi che è un CMOS. Potete trovare anche qui vari tipi, quindi un 74HCT, 74AC, ACT. Comunque vedete che c'è la C che mi sta a indicare che è ECMOS. Questo genera non poca confusione. Per essere sicuri andate sempre a vedere il datasheet. Abbiamo detto poi che c'è la famiglia 40 e di fianco anche i 54 che sono quelli militari. Quindi state attenti. Il problema poi è quando li mettete insieme. Quindi come, cosa succede se combino un 74LS con un 400. Si può fare, non si può fare? Lo vedremo in un prossimo video. Anche il video di oggi termina qui. spero sia stato interessante. Quindi abbiamo visto una veloce panoramica sulle famiglie logiche. Avremo modo comunque di approfondire questi argomenti. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani. Ciao!